meno tutte le squadre volevo dire vabbè siamo già a scontro finale 10 power up che cazzo hanno trovato tutto loro lì ok 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 prendiamo subito le casse velocissimamente vai così perché ho sparato danno e lo so mamma mia ok manca l'ultima qua sotto e adesso siamo circondati cazzo quasi sparano tra di loro abbiamo vinto lo stesso va bene così spacchiamo tutto qua dai cazzo cazzo quelle cose viole per terra non me ne ero manco accorto cazzo cosa vuoi fare adesso pezzo di coglione di merda niente niente da fare niente da fare va bene più 30 coppe ce le teniamo ovviamente siamo arrivati a 26.662 obiettivo 50 gettoni ma che cazzo ci devo fare ma date di più in questi obiettivi date date di più 750 che poi arriva 50.000 coppe aspetta che cosa è leggendario arriviamo a 30.000 coppe e ci prendiamo la star leggendaria ok 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 arriviamoci ora subito immediatamente ma com'è che l'altro funziona meno porco di quel demonio niente andiamo a cambiare brawler mettiamo questo palla di lardo no niente niente stavo scherzando quella cassa è mia quella cassa è mia stai lontano dalla mia cassa hai visto cosa succede ad andare a prendere la cassa degli altri ecco la prossima volta non lo farei più sta succedendo di tutto è scoppiato una cazzo di bomba allora è vero che sei una palla di lardo porco demonio ok abbiamo finito la partita state ancora prendendo le mie casse ve ne prendirete molto presto ma che devi fare che devi fare subito mi uccido come niente fosse proprio dove sono nascosti quelli bomba pronta ad esplosere cazzo vingiamo anche questa andiamo subito a distruggere queste tre casse cazzo c'è il palloncino che fa una buttapine mamma mia quante se ne sono presi questi almeno abbiamo recuperato la metà ok abbiamo recuperato tutte questi ne hanno solo due ma che cosa vogliono fare che faccio scoppiare una bomba porco demonio questa cassa è mia mettiti l'anima in pace mettiti coglio merdo boom scoppia tutti morti tutti morti non durano un cazzo queste partite vediamo se possiamo vincere anche questa partita dai vaffanculo ho fottuto il power non rischiamo non rischiamo cazzo porca puttana porca troia porca di quella coglioni di merda porca puttana vabbè vabbè no io non gioco più star de merda più 42 coppe mamma mia manca pochissimo 26.700 dai vediamo se ci arriviamo allora qua c'è un'altra io mi prendo questa due stanno venendo attenzione ok 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 casse tutte nostre queste me le pappo io vuoi dire qualcosa in boom vaffanculo vai 13 13 power up adesso fermami ora se hai il coraggio abbiamo vinto cominciamo a prendere questa cassettina eh no eh no eh no sto personaggio che mira de merda no 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 vai via vai via vai via spazzalo spazzalo che mira de merda porco demonio boom vaffanculo vai distruggilo seee vaffanculo vieni ora rompe i coglioni vieni quasi lo uscitevo boom vaffanculo vai vieni 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 a rompe i coglioni vieni e adesso tocca a te coglione scontro finale porca troia nove ne hanno ah ma c'è ancora quel cazzo di coso che salta porca puttana boom porca troia è saltato cazzo 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 allontanati da qua distruggilo 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 secondo posto meglio di niente vai porca puttana però porca niente mancano 20 coppe 20 coppe per 26.700 io me ne voglio prendere i 50 gettoni qua 20 coppe quindi basta che facciamo due vittorie e un secondo posto un terzo posto così dai 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 che ce la facciamo dai che ce la facciamo anche bisogna fare anche due win streak che ci danno le coppe in più quindi basta quelle un topo de merda porco demonio li odio sti topi di cazzo porca troia al limite sono arrivato salvati per favore salvati la tentazione di uccidere questo è altissima però resisti qua fargli uccidere tra di loro fargli fare quello che vogliono lì anche se io ci vado non me ne frega un cazzo uccidilo uccideteli mamma mia raga mamma mia cazzo lo sapevo porca puttana lo sapevo vabbè tre squadre rimaste ora si uccidono sicuro quelle due ok scontro finale ma arrivato a questo punto non lo vinceremo mai soprattutto con uno come sto figlio di puttana squadra come ve la vuoi vincere niente più sette proviamo a vincere questo poi vediamo quante coppe abbiamo fatto non lo so cazzo potenzialmente importante non lo posso sprecare così subito scontro finale mamma mia quanto odio sto coglione che salta porca puttana vabbè circondiamolo è figlio di troia lo sapevo io tanto farà la brutta fine dai è inutile che salta salta fiorellino salta fiorellino porca puttana porca troia che cazzo è quel coso ratatoil che cazzo è vabbè va 14 power ancora tempo mi devi perdere mi dica signore mi dica cosa vuole fare è stato un piacere signor ratatoil io faccio esplodere tutto qua adesso oh era ora porca troia vabbè vediamo quante coppe abbiamo fatto più 21 ce l'abbiamo fatta 26.702 coppe ancora qua ci manca per sbloccare questo andiamo a spacchettare tutte queste più 100 una star una star di merda milla monete un'altra star mitico leggendario star leggendaria una skin di squeak che probabilmente non so se userò però vabbè se si mette da sola la uso se no niente 1470 ok altra star rara 10 gemme che non fanno mai male altra star super rara ma vabbè niente di che quindi ricapitolando mancano ancora tante coppe mancano per arrivare 50.000 qua eh ce ne vuole un bel po' per arrivare i 50.000 ancora continua non è più 50.000 il limite incredibile incredibile hanno ampliato il limite ora quanto cazzo è il limite 100.000 è il limite adesso 70.000 ora è il limite di 70.000 coppe e che cazzo ci arriva raga aiutatemi non lo so vabbè intanto cerchiamo di arrivare ai nostri 30.000 che non fa mai male però vabbè ci accontentiamo quindi per adesso ricordatevi sempre 26.700 rod a questo punto rod to 70.000 coppe a questo punto a questo punto Grazie a tutti Grazie a tutti